Laura Calosso presenta l'agave della regina Vittoria a Bordighera credo bene perché raccontando di questi libri viene fuori una storia poco conosciuta di Bordighera della colonia inglese e che stupisce sempre anche le persone che a Bordighera abitano quindi direi interessante io ho casa Bordighera e quindi è per me un luogo di affetto e di famiglia e di ricordi per cui di fatto ci torno regolarmente. Sono stata invitata dalla libreria Mondadori e siccome le librerie di Bordighera sono state veramente molto importanti nel lancio dei libri e nella promozione mi sembrava assolutamente doveroso da parte mia partecipare perché sono stati molto bravi devo dire cioè hanno fatto un grandissimo lavoro. Grazie a tutti. Grazie.